Viola complimentissimi, sono occhi lucidi per la gioia immagino, stavo piangendo appena sono arrivata, perché comunque era quello che ci voleva proprio in questo momento, dato che ho passato un anno un po' difficile per i problemi di salute, quindi veramente, già ieri con 50 del Pinot avevo buone sensazioni, quindi sapevo di farcela e non ho mollato fino al primo metro. Quindi adesso a testa bassa fino a Parigi? Sì, adesso lavoriamo duramente fino a Parigi. Complimenti ancora in bocca al lupo. Grazie mille.